Parliamo ancora di sicurezza sulle strade, passiamo alla cronaca. Brutta avventura per una famiglia composta da quattro persone, padre, madre e due figli, ieri sera intorno alle 23 sulla strada che collega Mottola a Noci. Per cause ancora in corso di accertamento, l'auto sulla quale viaggiavano è finita fuoristrada in una scarpata profonda circa 40 metri. Miracolosamente i quattro sono rimasti illesi, i due ragazzi sono riusciti ad arrampicarsi e a chiedere aiuto, mentre i loro genitori sono stati tratti in salvo dai vigili del fuoco. Per tutti solo lievi, escurazioni e naturalmente tanto spavento. Cora cronaca, Mottola, personale della locale stazione Carabinieri, arrestato in flaganza di reato Valentin Railenau, un 44enne moldavo residente a Mottola. L'uomo è accusato di maltrattamenti in famiglia, lesioni, minaccia gravata e danneggiamento. Sempre per la cronaca nera da segnalare che i Carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato Valentin Railenau, 44enne moldavo residente a Mottola, per maltrattamenti in famiglia, lesioni, minaccia gravata e danneggiamento. Grazie. 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 Grazie.